Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e sto parlando in questo modo perché non ho parole, non ho parole perché raga ho scoperto tutto quello che ci sarà nel Brawl Talk, so anche la data, raga la data, quando io vi dirò la data vorrei essere lì per vedere la vostra reazione. Può anche darsi che è una data falsa ma c'è più probabilità che vera, perciò quella che vi dico probabilmente ha anche un senso, non è che io la voglio sparare a caso, raga so tutto, so il Brawler, so tutte le skin, qualcune cose ve le esalterò perché ovviamente non voglio spoilerare tutto, però andiamo. Allora ragazzi partiamo subito, avete presente questo post che ha messo la Supercell su Twitter, in realtà anche su Instagram, su Facebook, dappertutto? Era in pratica questo qui di 8-bit con scritto Brock, ma guardate bene la tastiera delle parole che consiglia. Rocket, is and ass. Is, raga quello là non è un is, quello là è un 15, perciò è probabile che il 15, ovvero domani, è il Brawl Talk. Non ho parole io, infatti per questo vorrei vedere la vostra reazione perché è domani, forse, però non l'hanno messo così a caso, qualcosa significa. Raga non ho parole, ma passiamo avanti. Allora ragazzi, se volete prendervi Power Up in sopravvivenza, non dovrete più sparare alle casse. Perché? Perché adesso dovreste fare una missione in battaglia per prendervi Power Up. Praticamente si, vi si prende da solo in pratica. Guardate bene cosa c'è scritto lassù. È tutto in inglese, però c'è 12.000 pure in verde per farvelo vedere bene. Per avere un Power Up dovete fare almeno 12.000 di danno. Poi, se fate questa missione, vi darà un'altra missione così sempre più Power Up. La dovete fare in battaglia. Infatti io, ragazzi, per me sta cosa è un po' bruttina perché, cioè, era meglio prima, dai. Cioè, 12.000 di danno sì, si possono fare, però dai, dai. Poi ragazzi, ogni brawler ha la sua missione. Tutti cambiano. E a volte nemmeno per i Power Up, nel senso. Tipo, se fate questa missione in battaglia, che non si troverà nel Brawl Pass, ma proprio già, mentre sei in partita c'è la scritta, vi, tipo, vi farà, facciamo un esempio, vi farà più danno, vi farà andare il brawler più veloce, capito? Che mese siamo? Ottobre, ovvero Halloween. La festa del 31 ottobre che si avvicina e guardate la skin che hanno pensato. Spike infuocato. Bella? Molto, dai. Una skin? Ti sembra tanto? No, ragazzi, no. Anche le nuove pin, le nuove emoji. di Spike Zucca. Bellissime, ragazzi, eh. Dai, ditemi la verità, sono belle. Una skin e un emoji, ti sembrano tanti? Ragazzi. Fire. Brawler nuovo. Che vede tutto fuoco. Si sono fissati col fuoco, quelli della Supercell, perché Spike, nuova skin fuoco, brawler fuoco. Questo è il nuovo brawler, non vi so dire tanto, non so l'attacco, so solamente che così, nuovo brawler, Pyra. Ok, ok, sta diventando troppo, diciamo, Halloweenoso, questo brawler talk. Ragazzi, una skin per rosa, dopo, dopo più di un anno e mezzo. Ehm, rosa, 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 pop, corn. Skin veramente strepitosa, gli vorrei mangiare tutti i capelli fatti di pop corn. Ragazzi, nuova skin per rosa, tutti la stavano aspettando. Parlando ancora di skin, c'è questa qua di Nita, tutta viola, più delle nuove modalità, queste, delle modalità, non è 100% sicuro. Però, regà, non so come si gioca, le sto solamente così vedendo. Già, ragazzi, ho l'acqua di Nimbok. Poi abbiamo anche sempre queste due skin, perché quella di Nita l'abbiamo appena vista, di Jesse e Eugenio. Eugenio, ragazzi, mi piace un batto. Jesse pure, però Jesse non la uso mai, non mi piace, sinceramente. Ma che bello. Ed ecco la skin che stavamo aspettando da anni. Anni. A-N-N-I. Ora voi, vabbè, che bello. Adesso la prenderemo con le gemme, come sempre. Sbagliato. Adesso solamente i primi dieci al mondo, infatti c'è anche scritto dieci players, al mondo in sete di potere potranno avere zombie B. So che adesso vi starete mettendo a arrabbiare e sbattere il telefono contro il muro, perché volete anche voi zombie B, però, ragazzi, è così, che volevo dire. Poi, ragazzi, questo non lo so, tipo come la PSG di Shelly. Chi la vinceva aveva la skin gratis, ma se non la vincevi nel negozio ci sarebbe stata anche la possibilità di comprarla, anche se non l'hai vinta la championship. Però, ragazzi, con zombie B, non lo so. Ovviamente, ragazzi, nuove mappe. Ecco, ragazzi, subito vado su YouTube e guardate cosa mi appare. Comunque, ragazzi, il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto, ma sicuramente sapete tutto di domani al prossimo video. Ciao!